Quest'anno non puoi mancare alla serata finale del premio Beatrice. Domenica 14 giugno, Teatro Romano di Verona, con Francesca Ceyenne e Charlie Gnocchi di RTL 102.5. Sarà un momento per mettere in luce talenti, valori ed emozioni in una delle cornici più suggestive della città. Tanti grandi della musica e comici per una serata all'insegna del sorriso e della solidarietà. Quest'anno non puoi mancare. Vi aspettiamo. Premio Beatrice 2015, Teatro Romano, 14 giugno, ore 21.